Buongiorno ragazzi, oggi video in esterna in cui vi faccio vedere un po' cosa abbiamo fatto qua a casa nuova pian pianino si vede la casa, ho cambiato faccia dicevo l'obiettivo del video di oggi è mostrarvi innanzitutto un po' i lavori dall'esterno vi parlo del 110, l'abbiamo fatto o non l'abbiamo fatto, il perché, il per come e vi dico qualcosa sui costi e qualche consiglio utile per chi come me, come noi, si è prodigato in questa avventura anche se prima credo che sia giusto evidenziare da dove siamo partiti, giusto per farvi rendere conto un po' meglio poi del cambiamento che vedrete allora vado un po' a random in base a quello che mi viene in mente abbiamo piastrellato tutto il marciapiede, abbiamo optato per una piastrella col bordo come vedete qua dobbiamo ancora stuccare, però ecco, avere una piastrella col bordo dal punto di vista estetico è sicuramente la soluzione ottimale costano un po' di più ma insomma fanno la loro porca figura poi andiamo avanti, allora il colore è un terno all'otto cosa abbiamo fatto? Inizialmente l'abbiamo scelto sul catalogo dei colori ma girando un po' qui per il paese abbiamo visto una casa che aveva un colore che ci piaceva abbiamo citofonato, abbiamo chiesto se ci dicevano, se ci davano un po' qualche informazione sono stati gentilissimi, ci hanno dato il codice colore quindi abbiamo replicato esattamente lo stesso codice colore della casa che ci piaceva e devo dire che il risultato è ottimo, siamo abbastanza soddisfatti anzi molto soddisfatti, è un grigino, tortora, che dà anche sul giallino in base un po' al sole, l'ombra e quindi insomma è qualcosa che si integra abbastanza bene col grigio che è l'altro colore molto preponderante qui nella casa abbiamo inoltre prolungato la canna fumaria e niente, siamo arrivati su a tetto, è la canna fumaria della caldaia di condensazione quindi non fa fumi tossici ma solo vapore, però era giusto prolungarla sotto il balcone abbiamo sistemato il sotto balcone e invece di intonacarlo come il resto della casa l'abbiamo fatto bianco anche guardandoci un po' in giro abbiamo visto che la maggior parte dei balconi appunto erano bianchi quindi ci piaceva un po' l'effetto e il contrasto guardando qua la linea di demarcazione tra il balcone e il muro si capisce bene che un po' il colore non è bianco ecco come sembra ma è veramente tortora, grigio tortora i davanzali non c'erano e non li abbiamo messi inizialmente volevamo optare per un lamierino, una scossalina ma essendo davanzali protetti praticamente non si bagnano quasi mai poi queste sono le finestre del laboratorio quindi in teoria non dovremmo avere problemi un domani qualora dovessimo cambiare idea e aver problemi per via del fatto appunto che non abbiamo il classico davanzale opteremo per una piastrella tipo questa in modo tale da contenere i costi le piastrelle hanno questo formato che è un 15-30 lì invece a proteggere diciamo la parte iniziale del muro abbiamo un 30-60 il colore è sempre lo stesso l'abbiamo comprato in due momenti diversi e quindi non so se si capisce ma c'è un cambio di tonalità ma è veramente impercettibile abbiamo piastrellato tutto l'ingresso del laboratorio eccolo qua la casa praticamente ha questo corpo che non ha la gronda superiore allora quasi tutta la casa ha la gronda superiore in questa parte della facciata non c'è la gronda che protegge la facciata quindi ho incassato una trave inghissato una trave nel muro andando a fissare col chimico e poi andrò a montare una tettoia a legno che è un brevetto particolare che vado a mostrare di dopo questa parte qua che è un corpo scala staccato alle spalle di questo muro c'è un sottoscala quindi non è stato cappottato non ho messo il cappotto perché avrei dovuto modificare tutte le soglie delle pedate, delle alzate quindi avrei veramente dovuto fare un lavoro ciclopico solo per che cosa? per andare a proteggere questa parte della casa che non mi dava alcun vantaggio in termini energetici nel senso che alle spalle di questo muro appunto come vi dicevo c'è un sottoscala e quindi già l'intercapedine nel sottoscala fa un po' da isolamento per ovviare al fatto che questa parte non è protetta da una gronda superiore abbiamo deciso di piastrellarla completamente con le stesse piastrelle che abbiamo utilizzato per la parte bassa e qua abbiamo aggiunto un bordino dato che la piastrella sborda rispetto al limite del marmetto ecco che questo bordino aiuta un po' a far defluire l'acqua allora qua dietro era praticamente una zona abbandonata cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto una gettatina di cemento e posato questi autobloccanti che adesso vanno puliti perché sono veramente sporchi abbiamo dato chiaramente una pendenza verso il muro esterno quindi lontano dalla casa in modo tale da allontanare il più possibile l'acqua dalla base del cappotto anche in questo caso i davanzali non c'erano e non li abbiamo messi i davanzali superiori invece sbordavano già di quel tanto per poter mettere il cappotto da 8 cm quindi non abbiamo fatto tre lavori di muratura supplementari le travi del tetto spero che si veda sono state tutte scartavetrate e rivarniciate di bianco erano di color noce ma ormai il colore era andato perché da 60 anni non era stato fatto nessun intervento di manutenzione quindi bisognava assolutamente dare una bella rinfrescata così come tutti i muri quelli in fondo lì sono stati rifatti vi faccio vedere come erano prima erano quelle classiche lastre prefabbricate la maggior parte come vedete lì erano danneggiate quindi praticamente ho ispessito tutto di un 4-5 cm e ho riverniciato con vernice acril sinossanica anche i muretti sotto qua li abbiamo rifatti tutti adesso bisogna dargli una passata perché quei lavori chiaramente un po' di segni ci sono ma vabbè avevamo messo in conto i pluviali vengono a metterli domani quindi in base a quando pubblicherò il video magari riesco a a darvi anche un riscontro sul pluviale questo qui chiaramente è il provvisorio adesso andiamo dentro il laboratorio ecco qua il travetto lo vedete qua praticamente come vado a fissarlo lo fisso mettendo questa piastra su quella trave che vi ho mostrato prima vanno semplicemente messe delle viti e va appunto fissata sulla trave questo fazzoletto qua va a finire qua dentro qua c'è una scalalatura eccola qua e poi ci saranno due bulloni passanti che andranno a bloccare il travetto sulla piastra lì su in alto verrà installata una tenda da sole quella sì siamo riusciti a sfruttare l'incentivo del 50% sconto in fattura il consiglio che mi sento di darvi se avete intenzione anche voi di fare un lavoro del genere installare una tenda da sole è quella di prevedere degli inserti che vi da direttamente il fornitore della tenda da inserire nel cappotto sono praticamente degli inserti di materiale isolante ad alta densità per far sì che nel momento in cui verrà installata la tenda chiaramente si andrà a tirare appunto i bulloni di fissaggio non ci sia il rischio di sfondare il materiale che c'è dietro altro consiglio che però adesso non riesco più a farvi vedere è quello relativo al fatto che la parte diciamo di isolante quindi polistirene, polistirolo insomma quello che andrete a mettere non deve mai andare a toccare a terra qui non si vede perché ormai c'è il ricoprimento però sostanzialmente c'è quella che chiamano la falsa partenza in alcuni casi si mettono dei profilati d'alluminio alla base si tassellano e si appoggia sul cappotto lasciandolo qualche centimetro più alto rispetto al marciapiede o comunque al livello del terreno sul perimetro praticamente si lascia uno strato di vuoto dietro poi chiaramente si va ad appoggiare il rivestimento come in questo caso la piastrella e si va chiaramente a coprire lo strato di vuoto questo strato di vuoto appunto evita la risalita dell'umidità ed infine alcuni dati relativi al rivestimento la facciata è stata inizialmente lavata ed è stato steso un ponte adesivo primer i pannelli tipo eps bianco spessore 8 cm sono stati inizialmente fissati con colla e successivamente bloccati con tasselli il primo strato di pannelli fino a circa 50 cm ha una colorazione diversa in relazione al fatto che ha una densità maggiore per resistere ad eventuali urti che sono più probabili chiaramente nella parte bassa del rivestimento sui pannelli è stato steso un doppio strato di malta rasante inglobando all'interno uno strato di rete ed in ultimo finitura colorata con intonaco acril silossanico grana 1,5 mm inizialmente Grazie a tutti.